Vediamo ora il modo in cui è stato configurato il progetto, in modo poi da avere una comprensione, una visualizzazione più immediata. Anzitutto qui vediamo il gruppo delle tracce midi, che sono disposte dall'alto in basso secondo il modello della partitura orchestrale, quindi cominciando dall'alto con gli strumenti a fiato, più acuti, procedendo poi via via fino ad arrivare negli strumenti ad arco. Qui in alto vediamo con colorazioni differenti, in giallo gli strumenti a fiato, troviamo due tracce midi per il flauto etnico, knife, flute e duduk, poi andiamo in verde gli strumenti a corda pizzicata, plucked strings, sempre tratti da silk. Quindi bowed strings, troviamo il cello elettrificato, richiesto tre tracce midi, seguono poi gli strumenti a percussioni, sono stati presi invece dalla libreria RA, come abbiamo visto in quanto silk ne è sprovvisto. Quindi la parte vocale consiste in una sola traccia midi, come abbiamo già visto si compone principalmente di frasi pre-registrati, lo troviamo qui in rosso. E infine in arancione la sezione strings, anche questa richiesta tre tracce midi, qui nella seconda parte, nel blocco sottostante, troviamo le relative tracce audio, distinte poi dallo stesso colore, lo stesso colore rispetto alle relative tracce midi. Riguardo ai nomi riportati sulle tracce midi, che vediamo qui a sinistra nella colonna delle tracce, diciamo subito che si tratta delle stesse indicazioni, gli stessi nomi che poi potranno essere cercati e verificati nelle varie librerie. Questo appunto per semplificare poi la ricerca di ogni patch e in modo che poi venga caricata correttamente e assegnata alla traccia midi specifica. Quindi se andiamo poi ad aumentare la visualizzazione in senso verticale, vediamo che anche le parti interne riportano, le parti interne delle tracce midi riportano lo stesso nome. Qui vediamo il player play a cui sono associate, in questo caso la traccia midi del flauto Nae Flute, vediamo come è stata caricata in questa prima istanza e associata tramite il consueto numero di canale midi che troviamo qui riportate insieme al nome. Inoltre il progetto nel suo sviluppo ha richiesto tre istanze di play che vediamo qui caricati simultaneamente nel rack virtuale qui a destra. Questo è un progetto che può essere eseguito con tranquillità da un computer di media potenza con risorse chiaramente sufficienti all'esecuzione di questo blocco di tracce midi. Quindi nelle immagini vediamo in realtà molti più strumenti e articolazioni caricate nelle istanze in quanto sono servite appunto per la lavorazione, per la sperimentazione dei vari suoni e quindi per la realizzazione stessa del brano. Qui vediamo come al solito l'indicazione del numero delle istanze che viene riportato qui poi a sinistra nel inspector che andrà poi appunto a veicolare diciamo le informazioni midi. Qui vediamo anche un'istanza della libreria Hollywood percussioni Hollywood da cui sono stati tratti alcuni strumenti a percussioni. In realtà tutte le interfacce di tutti gli strumenti riportano gli stessi comandi tranne alcune differenze come l'impostazione appunto delle scale etniche come abbiamo visto nella libreria silk. Per il resto poi si equivalgono in fatto di controlli e di misurazioni.